E' una misura di sicurezza. La sicurezza è dovunque ci sia una persona, in qualunque ufficio della regione, in qualunque struttura della regione, compresi gli ospedali, ma non solo, in tutti gli uffici di competenza della regione. Però è un richiamo generico, nel senso nel testo non c'è scritto un nuovo col burca. Non ho capito. È un richiamo generico al volto coperto, non c'è scritto non si può entrare col burca, solo per capire il testo non è. Sono le norme nazionali, ma specifichiamo, siccome nel regolamento non era specificato e come sapete meglio di me, quando non c'è scritto esattamente che cosa uno deve fare, poi spesso non si fa. Non è scritto nel regolamento e quindi il divieto di entrare e quindi tu puoi entrare. Adesso è scritto. Quindi chi controlla l'ingresso negli ospedali, negli uffici pubblici, sa che se vede qualcuno che entra col volto coperto, non lo fa entrare. Ci spiega bene quando c'è scritto. Cioè, specificamente col volto non si può entrare in altri dati. È un regolamento specificato. No, non è scritto col volto coperto. Facciamo riferimento a una legge nazionale, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Semplicemente l'abbiamo messo nel regolamento nostro che non prevedeva questo riferimento esplicito. Abbiamo reso esplicito il riferimento alla legge. Ok, quindi non sono previsti, non so, cartelli o sanzioni extra rispetto alla legge o... È previsto il divieto di ingresso. Quindi non c'è più segnalare, non so, con cartelli. È già una legge dello Stato questa, no? È con tutto riferimento a questo. Quindi noi non dobbiamo pubblicizzare una legge dello Stato. È un regolamento rivolto agli operatori della regione Lombardia che vengono richiamati ad applicare una legge in modo esplicito rispetto a prima, visto che loro si attengono giustamente ai regolamenti della regione. Se nel regolamento non c'è scritto questo e finora si è fatto così, qualcuno potrebbe dire continuiamo a far così. Ecco, da oggi sa che non si può più continuare a far così, che se uno gira o entra o cerca di entrare col casco o col volto coperto non può essere fatto entrare, per ragioni di sicurezza.